Eccolo, odiaolo! Allora, come tu stai? Sì, tutto a posto. Amico! Tutto bello, grazie! Escolto un'osso, ora ci si fa le foto e possiamo mangiare un buon prodotto, eh? Stai! Sì! Andiamo, è la fatta questa foto! Ora ti porto a mangiare un buon prodotto. Andiamo, va avanti! Lo fanno loro, tu sentisci, mi è morbido, il panino è proprio crocchente! Fanno poi lì tre ore! E te lo zuppano nel brodo! E a voler mettere anche la maionetta nel panino? Guarda, lascia fare allora! Vai a la cucina a mangiare di riso, vai! Allora diciamo, vuoi se stai bene, se stai male, noi ci stai mangiando bene! Non ci si vuole la mentale! Se spesso possiamo stare bene, se mangiare bene! Stai una bella giornata e accompagnavi tu! Non ne prendi male! Sì, ho le lezzate, guarda! Le lezzate, guarda! Le lezzate, guarda! Dovevo mettere la bella! Ma poi spesso poco ho mangiato bene, le mie tizia, le compagnia di amici, tutti i beni, tutto! Dopo qualche anno l'abbiamo fatto pipata insieme! Lui prendeva quello me, io prendevo più quello lui! Le lezzate! Capito, io c'avevo bainini! E non c'avevo appastato! A un certo punto mettono la mento, gli erano pesci sole! Ma invece gli erano una carpa! Oh! Fa conto, non ho preso! Ma ora io gli erano i carpotano che gli erano di buttare dentro! Gli erano di buttare dentro! Ma io sono convinto gli erano buoni anche fatti sui cartoggio!